70 anni senza conflitti, 70 anni senza pertenze, 70 anni di crescita e più si rafforzano le nostre aziende, chiaramente più è forte la nostra regione. Il lavoro è la prima delle libertà che va assicurata, quindi il Consiglio regionale continuerà a segnare la propria gratitudine e ammirazione e anche ad ascoltare dai territori le necessità. Lo faremo per tutte le altre aziende in cui rintracceremo questa eccezionale ed epica, eroica esperienza imprenditoriale.